Buongiorno e benvenuti a tutti, iniziamo con le premiazioni delle squadre che hanno partecipato a questo torneo Beghi. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato, le famiglie, le società e il signor Beghi, lo sponsor Aja Servizi. Questo è un torneo che è giunto alla 32esima edizione, un torneo molto importante e prestigioso di Piacenza, quindi siamo molto contenti perché quest'anno sia andata molto molto bene. Iniziamo con i premi individuali, iniziamo con il premio del capo camminiere del torneo Beghi, trofeo Asia, premia Sara Zanardi di Asia Servizi e Costanza Gatti. Eccoci qua, vince il premio del capo camminiere del torneo Beghi, Lorenzo Fontanini della Rezzana. Grazie a loro! Bravissimo Lorenzo, un altro applauso. Ora passiamo al premio per il miglior giocatore del torneo, un premio offerto dalla famiglia Beghi. Premiano il signor Beghi e Alice Fontana. Il premio di miglior giocatore del torneo va a Flavio Ferrari del Torneo. Grazie a loro! Bravo Claudio, un applauso anche per lui. E ora passiamo al premio per la seconda squadra classificata, premio al presidente di Piacenza D'Arcio Stefano D'Arcio e il presidente Paolo Sercaspeinato. Seconda squadra classificata, la Ricciano. Grazie! Grazie! Guardate qui ragazzi! Guardate qui! Guardate qui! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Adesso facciamo a tutti i contatti. Primo classificato del 32esimo che sono venuti, premio al presidente della delegazione di Piacenza D'Arcio Stefano D'Arcio, Luce di Parma. Grazie a tutti! Grazie a tutti e a tutti i spettatori di questo bellissimo giorno che quest'anno è stato molto convincente. Complimenti agli ragazzi di Parma che hanno vinto e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.